Salve a tutti amici di Marcosbox e benvenuti in questa trentasesima puntata del podcast di Marcosbox puntata molto breve questa settimana perché non ci sono state molte notizie da parte del mondo del software libero open source ma sono sicuro che sarà ovviamente una puntata lunga perché ogni qua volta ci sono pochi argomenti finisco per fare un pippone che non la finisce più iniziamo parlando di Richard Stolman che lo scorso venerdì 27 settembre ha tenuto una conferenza dal titolo soft libero democrazia presso l'università di Genova se avete avuto modo di partecipare a questa conferenza e volete condividere con il pubblico di Marcosbox facendo un resoconto del suo intervento vi ospito volentieri quindi scrivetemi su Facebook, Twitter, tramite mail, scegliete voi quello che volete utilizzare come mezzo per mettervi in comunicazione con me e sarò ben lieto di ospitarvi perché fa sempre piacere condividere le parole di Richard Stolman a tutti quindi evangelizziamo il mondo col suo verbo restiamo sempre in tema Richard Stolman la scorsa settimana il nostro amato Richard Stolman aveva annunciato le sue dimissioni dalla presidenza della Free Software Foundation dal suo consiglio di amministrazione nonché dal CSILE dell'MIT di Boston la decisione fu presa a seguito delle pressioni mediatiche e anche interne scatuite a seguito delle sue parole sulla vicenda Epstein sapete bene come la penso magari andatevi a riascoltare la precedente puntata o leggevi l'articolo al riguardo che ho pubblicato su Marcosbox parole che sono state un po' frentisi però questa è stata la goccia che ha fatto tra bocca e ribaso perché Stolman non ha mai avuto peli sulla lingua e quindi tende spesso a esagerare e le sue parole vengono spesso mal interpretate comunque che è successo? è successo molti a seguito di questo annuncio si sono interrogati sul suo ruolo all'interno del GoNewProject questa settimana Stolman ha risposto direttamente sulla main list del GoNewProject e ha ribadito il fatto che lui resta in capo al GoNewProject quindi state tranquilli Stolman resta lì dove sta quindi con il GoNewProject non c'entra niente ce l'ha tenuto anche a precisare non c'entra niente con il suo ruolo nella Free Software Foundation sono due vicende separate e distinte quindi non c'è pericolo piccola nota di colore a margine questa settimana la stampa internazionale aveva riportato alcune, o meglio aveva riportato una dichiarazione di Stolman sul suo sito ufficiale Stolman.org dove praticamente era stato riportato nel giorno 27 se non ricordo male proprio che annuncia la parte di Stolman della sua decisione di ritirarsi dal GoNewProject poi che cosa è successo? approfondendo la vicenda si era scoperto che era stato vittima di un hacking il suo sito e quindi di conseguenza erano state pubblicate parole non sue tant'è vero che poi il post a riguardo è stato subito rimosso quindi Richard Stolman non si è dimesso resta a capo da GoNewProject quindi dormite sogni tranquilli passiamo adesso alla notizia più succosa di questa settimana ovvero il rilascio della beta di Ubuntu 19.10 dei suoi frameworks ufficiali i sapori diciamo così di Ubuntu iniziamo parlando dell'edizione principale di Ubuntu che vede l'arrivo di GNOME 3.34 con tutti i benefici in termini di prestazioni che questa nuova release porta con sé arriva anche una nuova versione del tema di default di Ubuntu il tema Yaru che adesso è basato sul tema Adwaita ne ho parlato la scorsa settimana no anzi un paio di settimane fa e adesso ha delle tonalità chiare che non stanno piacendo molto agli utenti che preferivano la vecchia versione quella scura ma tant'è il nuovo corso è quello quindi statici nel dubbio cambiate se non vi piace questo nuovo tema questa nuova edizione del tema Yaru potete sempre impostare il tema che preferite scaricandolo e impostandolo Ubuntu 19.10 Mate vede l'arrivo di Mate Desktop 1.22.2 vede la rimozione di Compiz e Compton che non sono più installati per l'impostazione predefinita il motivo della rimozione risiede nei miglioramenti che sono stati apportati a Marco con il gestore delle finestre di Mate e quindi il team ha deciso di lasciare soltanto Marco e quindi non preinstallare più Compiz e Compton se però volete reinstallare perché volete ripristinare il famoso cubo di Compiz potete farlo su Marco's Box trovate le istruzioni su come installare Compiz e appunto ripristinare il tutto abbiamo anche nuove combinazioni di tasti miglioramenti vari al pannello e agli indicatori Evolution che va a sostituire Thunderbird GNOME MPV che presto sarà innominato Celluloid che va a sostituire VXC di questo ne avevamo parlato qualche mese fa abbiamo raggiunta di Magnus un'applicazione che è ente di ingrandimento dello schermo abbiamo un restarting dei miglioramenti che sono stati fatti ai temi di Ubuntu Mate con correzioni di bug ottimizzazioni per le applicazioni in formato snap e miglioramenti per i controlli delle finestre delle applicazioni GNOME che uso in CSD abbiamo miglioramenti in Mate Tweak e Ubuntu Mate Welcome e abbiamo ottimizzazioni varie dell'isolo di installazione per quanto riguarda Xubuntu invece abbiamo l'arrivo finalmente di XF6 4.4G il cui rilascio è stato fatto lo scorso mese d'agosto altra novità di questa nuova versione di Xubuntu risiede in XF6 Screenseller che è stato sviluppato ed è quindi va a sostituire Light Locker per quanto riguarda Ubuntu non ci sono grandi novità abbiamo KDE Plasma alla versione 5.16 le KDE Application alla 19.04.3 e le Qt alla versione 5.12.4 vi ricordo che comunque per Ubuntu ci sono apposti di PPA che vi consentono di aggiornare KDE e tutto il cucuzzaro quindi sotto questo punto di vista non dovete stare tanto a preoccuparvi per quanto riguarda Ubuntu Bagi non c'è stata una nuova versione di Bagi Desktop ma sostanto quindi delle ottimizzazioni che sono state fatte sia ai temi predefiniti che sono stati aggiornati ottimizzazione a Bagi Desktop per garantire il corretto funzionamento con GNOME 3.34 anche in questo caso è stata aggiunta una lente di ingrandimento e sono stati fatti dei miglioramenti con alcuni nuovi applet l'Ubuntu 19.10 è una regresi di manutenzione quindi nessuna novità Ubuntu Kirin miglioramenti nella stabilità e Ubuntu Studio c'è una nuova versione migliorata di Ubuntu Studio Controls passiamo adesso al mondo Microsoft direte che cosa c'entra il mondo Microsoft con il software libero beh è presto detto il team di KDE ha rilasciato sul Microsoft Store di Windows 10 due delle applicazioni KDE più apprezzate dagli utenti Linux ovvero Kate e Ocular Ocular sapete tutti che cos'è è un visualizzatore di documenti universale ed è moltissimo molto apprezzato sia dagli utenti di KDE naturalmente che dagli utenti di altri desktop environment così come gli utenti apprezzano molto Kate che è l'altra applicazione che è stata rilasciata su Microsoft Store che cos'è un editor multidocumento in grado di editare documenti può essere utilizzato per scrivere codice è molto versatile ed è anche come ho detto prima anche questo molto apprezzato sia dagli utenti KDE ma anche dagli utenti di altri desktop environment l'integrazione sia di Kate che di Ocular è davvero fatta bene su Windows 10 ed è anche abbastanza reattivo l'unico problema è che le installazioni entrambe sono molto cicciotte sono circa 500 MB per ogni applicazione comunque è comunque una buona cosa una buona alternativa per chi come il sottoscritto è costretto utilizzare Windows 10 a lavoro ma così facendo si può portare alcune delle applicazioni che utilizza tutti i giorni su Linux le può utilizzare anche su Windows ben vengano queste contaminazioni chiamiamole così restante in tema Microsoft questa settimana Microsoft ha lanciato un videocorso gratuito su come programmare in Python il videocorso intitolato Python for Beginners è disponibile su YouTube comprensivo di 44 video lezioni di circa 3-4 minuti ognuna non è rivolto a chi si avvicina per la prima volta al mondo della programmazione è rivolto a chi ha già una dimestichezza con la programmazione magari avendo già programmato qualcosa in JavaScript oppure con Scratch che è il linguaggio di programmazione visuale sviluppato dall'MIT è rivolto ai bambini quindi anche nel caso mio posso utilizzarlo visto le mie scarse capacità nella programmazione è comunque disponibile gratuitamente vi ripeto lo trovate su YouTube a corredo del videocorso Microsoft ha anche reso disponibile su GitHub una serie di risorse aggiuntive che stavano a compriamento delle lezioni che potete naturalmente scaricare liberamente molti si sono detti entusiasti di questa cosa ed è una cosa positiva come si dice affoggio quando è gratis su Fujiburubis in questo caso prendiamo e accettiamo anche se alcuni diranno ma questa è una mossa fatta per motivo X motivo Y è comunque una cosa gratuita una risorsa gratuita che può essere utile a molti di voi ultima argomento della settimana riguarda le news da parte del team di Linux Mint ogni mese sapete bene che il team di Linux Mint fa un resoconto delle novità dal punto di vista della programmazione e dal punto di vista economico quindi fa il punto sulle donazioni ricevute nel mese precedente queste sono le principali novità di settembre la prima riguarda il gestore degli aggiornamenti vi ricorderete c'era questo bug nel ricordo del gestore degli aggiornamenti con l'ultima versione di Linux Mint che succedeva? succedeva che il ricordo del gestore degli aggiornamenti o non veniva visualizzata oppure partiva dopo oppure veniva visualizzata a metà è un problema molto difficile da diagnosticare perché stranamente non capitava ai vari sviluppatori di Linux Mint capitava a gente sfigata come me che trovo bug da qualsiasi ovunque praticamente pensate che io stasera ho trovato un bug anche con HowSync ho provato a aggiornare Nextcloud e mi si è bloccato quindi ha dovuto contattare adesso l'assistenza speriamo che possano risolverlo comunque giusto per dirvi che io li trovi bug praticamente ovunque anche in cose non installate da me i bug questo bug del Glicone del gestore è stato finalmente risolto il mese scorso era stato anche enunciato che un strumento di configurazione della lingua avrebbe permesso alle persone di scegliere le impostazioni internazionali per il formato della data è arrivato un diverso feedback da parte degli utenti che hanno contribuito a migliorare il tutto e sono stati individuati alcuni difetti quelli là che saranno corretti con la versione 19.3 sia per cinnamon che per mate lo scorso mese era stato anche annunciato un nuovo progetto chiamato xapp status icon che cos'è un'alternativa gtk status icon che in modo simile ad app in dichiaro quella di ubuntu utilizza dbass per trasferire le informazioni alle app e consigliere loro di visualizzare nativamente le icone nella barra delle applicazioni sapete bene che su gnome sono state deprecate queste cose resistono soltanto appunto su kde in questo caso su cinnamon e su xfc mate io sono uno di quegli utenti che ha bisogno dell'icone voglio l'icone nella try perché faccio largo uso di applicazioni tipo nextcloud tipo telegram e voglio l'icone cina benvenga il fatto che il team di linux mint decide di investire risorse anche per migliorare questo aspetto xapp status icon ha ricevuto ulteriore lavoro è disponibile una nuova API che semplifica lo sviluppo degli applet le applet attualmente sono disponibili per cinnamon e mate ma il team è già al lavoro per un plugin per xfc 4.14 questo è anche un'anteprima del fatto che la prossima versione di linux mint utilizzerà anche xfc 4.14 quindi buone nuove per chi utilizza l'edizione xfc di linux mint il linux mint 19.3 rib app indicator sarà patchato per usare xapp status come fallback quindi siamo coperti per quanto riguarda poi il tool rapporti di sistema o system reports se lo potete chiamare nel nome originale questo tool verrà potenziato con la prossima edizione e saranno aggiunte nuove funzionalità se è disponibile un onore xmint ci verrà notificato se la nostra versione si avvicina leo ci verrà notificato se la nostra configurazione in time shift è impostata ci verrà notificato praticamente scomparirà la notifica dal gestore degli aggiornamenti che non si occuperà più ma verrà tutto dirottato su system reports ci verrà detto se sono disponibili dei driver se mancano i language pack e se mancano i codec multimediali diciamo così che system reports oltre a darci informazioni sul sistema per aiutarci per fornire informazioni sui crash di sistema ci darà anche tutta questa serie di notizie quindi diventerà uno strumento molto utile specie per chi è alle prime anni con l'ambiente Linux il team di Linux Mint poi ha lavoro sul nuovo logo il nuovo logo adesso sarà composto soltanto da una lettera L e una M senza spazio tra di loro e senza la foglia circostante trovate sul blog alcuni screenshot di alcuni dei loghi che sono stati proposti sono tutti molto carini perché sono molto moderni per quanto riguarda invece il Mint Box 3 che sarebbe il mini PC che il team di Linux Mint proporrà in vendita assieme all'accordo fatto con CompuGab che si occuperà appunto della realizzazione del mini PC ci è stato fatto sapere che è già a lavoro il team di Linux Mint lo sta provando e ha trovato soltanto alcuni problemi relativi alla CPU che comunque verranno risolti quanto prima nelle prossime settimane poi arriveranno maggiori informazioni e arriverà anche una recensione fatta dal team di Linux Mint se me lo volete mandare a me ve la faccio io pure per quanto riguarda invece l'edizione Debian Edition Linux Mint Debian Edition abbiamo un nome Linux Mint Debian Edition 4 si chiamerà Debi però non abbiamo una data di rilascio quindi abbiamo per adesso il nome quindi già è una cosa altra grande grande novità della prossima versione di Linux Mint è che Xplayer se ne va che succede Xplayer è il videopredi default di Linux Mint che è basato su back-end G-Streamer è un progetto maturo che ben sindica con tutti quanti i vari ambienti desktop di Linux Mint le sue prestazioni però durante la riproduzione di video sono molto scarse rispetto a dati back-end come MPV Xplayer utilizza anche Clutter GST per il rendering dei sottotitoli e questo lo limita molto quando si tratta di riproducre video con l'accelerazione hardware per questi motivi qui il team di Linux Mint sta esaminando le alternative basate su MPV potrebbero per esempio parlano di utilizzare MPV stesso oppure utilizzare Celluloid oppure stanno pensando anche di scrivere un front-end per rib MPV1 anche se quello è deprecato quindi non so fino a che punto sarà il gioco valga la candela e quindi stanno considerando stanno valutando la sostituzione di Xplayer con qualche altra cosa vedremo nel prossimo mese se ci saranno informazioni a riguardo ricordo che Linux Mint 19.3 arriverà verso Natale ultima cosa da parte del team di Linux Mint ultima informazione riguarda le donazioni ricevute ci sono stati ben 529 donatori che nel mese di agosto hanno donato per un importo complessivo di 10.830 euro fa sempre piacere vedere l'amore di denaro che il team di Linux Mint riesce a smuovere ogni mese che poi viene reinvestito per la distro per i programmatori e quant'altro quindi fa sempre piacere vedere come il team di Linux Mint riesce nonostante le polemiche sulla distro riesce comunque a tirare l'attenzione dei donatori bene con questo concluso lunga vita e prosperità a tutti quanti ci riascoltiamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcosbox ciao